Intanto, prima di tornare a parlare, l'argomento era il campionato, la serie A, vi volevamo anche segnalare che è uscita la seconda edizione del bimestrale Med Magazine. Ecco, lo faccio inquadrare meglio dalla Barbara. Il bimestrale di informazione medica, che viene distribuito gratuitamente in numerosi centri fitness, centri medici, centri benessere, esatto. E ovviamente gli argomenti sono medici, ma non solo strettamente medici, perché si parla anche di benessere, si parla di salute in generale. Insomma, tutto quello che riguarda bellezza, benessere e medicina viene trattato e soprattutto viene distribuito gratuitamente. Quindi lo possono consultare, magari seduti comodamente nella sala d'attesa. Esatto, e in alcuni posti invece è possibile anche prenderlo, proprio portarlo a casa. Insomma, è possibile, se uno guarda sul sito internet, anche vedere come fare per richiederlo e per averne una copia. Perfetto, riprendiamo a parlare ovviamente di sport.